Siamo arrivati alla nuova giornata del giro di andata del campionato DNB, saremo ospiti sul campo di Monticelli che è squadra neopromossa e squadra insieme a noi a Corno di Rosazzo sulla carta la possibile vincitrice del campionato. Noi arriviamo dalla vittoria in casa contro Corno di settimana scorsa, giocando una buona partita, soprattutto difendendo tantissimo e tenendo il miglior attacco del campionato a quota 54 fra le nostre mura e giocheremo contro Monticelli che è di due punti dietro di noi in classifica a quota 10 ed arriva purtroppo da qualche sconfitta di troppo rispetto al roster che è di tutto rispetto se non di più, dopo aver raggiunto Rombaldoni sull'ossatura della passata stagione e aver raggiunto quest'estate Olivieri e Rechena, noi siamo comunque una squadra che ha recuperato totalmente Tri, quindi saremo al gran completo, vogliamo andare a Monticelli per comunque innanzitutto sicuramente vincere, dare continuità alle nostre vittorie e francumare il loro record casalingo che dura ormai da due anni e mezzo dall'anno in cui vinsero la C2 ormai due stagioni fa. Mi sento di dire che comunque la cosa che dobbiamo fare è sicuramente arginare tutti i loro singoli perché comunque possono fare punti tutti, da Acribos a Masieri, a Ocio, a Romaldoni a Giovannelli, a Bertolini, quindi è una squadra molto pericolosa, dovremmo essere bravi a tenere tutti gli uno contro uno, sia degli esterni che degli interni, a chiudere il loro contro il primario e nello stesso tempo di conto dovremmo essere bravi con i nostri lunghi a correre e a tenere il ritmo alto tutta la partita in maniera tale comunque da riuscire pian piano a tornare dalla nostra parte come modo di giocare. Speriamo comunque di dare continuità alle nostre vittorie. Ciao!